Vediamo appunto il conteggio, senza la musica, di tutta la sequenza del ballo. Prima però, attenzione perché è velocissimo, è lungo e ricco di B, quindi di parti dove dovremo saltare. Però provate ad applicare il consiglio che ho dato, cioè piegatemi un pochino sulle ginocchia a passare il baricentro. Non dovrete andare in su, ma restare il più possibile la pressione in giù, saltando. Le gambe andranno più veloci e sentirete sollecitare anche noi le spalle e il busto. Vi staccate un pochino lo stesso, allora provate. Al limite fate sempre il tempo a fare quello che preferite. Allora, prima di fare il conteggio devo dire una cosa della B. Certo, prima non ho detto, c'è un solo punto nella sequenza dove la B1 non sarà intera. Non faremo quattro ottave, ma su tre. ventiquattro passi. Saremo rivolte alle ore 12. Dopo, quindi, la parte laterale verso destra e verso sinistra, semplicemente, andremo a prendere con il piede destro. Non andremo a fare i rock in avanti, il mezzo giro, i due scutte, il rock back e il salto non chiedere no. Saremo qua questa parte preceduta da una B1 ed eseguita da un'altra B1. Dobbiamo farla per capire e dopo attacchiamo l'inizio di un'altra B1. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E riprendo. E riprendo. Ok. Questa è la B corta. C'è solo una volta, ovviamente lo dirò. Ora vediamo tutto il conteggio. A, B1, B2, tag 1, quello più lungo. A, B1, B2, tag 2, quello corto. A, B1, B1 ancora. A corta di 24 passo. Stiamo qui. Di nuovo B1, B2 e chiudiamo col mezzo giro per finire le 12. Non è che la farò oggi appunto. È lungo. Allora, iniziamo con la A con le 12. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Un estac. Un estac. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 La A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,2,3,4,5,6,8,1,2,5,6, qui,2,5,6,8,1,2,3,4,5,6,8,1,2,4,5,6,8,1,2,4,5,6,8,1,2,4,5,6,7,8,8,8 mezzo giro a sinistra, che ora non mi ricordo secondo fino ad 8 e dopo lo mi giro, Comunque siamo lì, con la musica lo sentite, quindi come vedete l'energia si consuma, è bella veloce, lo vediamo con la musica, non so se riuscirò a contare, andiamo.